C'è Mauri, hai visto? Vedi che quando meno te lo aspetti, come dicevi te Fettenti è andata subito a cercare il ramo Eh, la prima cosa che fa è quella Giustamente Anche questa è una bella partenza Però là era una carta sbogliata Così, così, così Eccola qua Bei colori ma Ti trova come un torrello Eccola qua